La contestazione sia nella forma dell'antisemitismo, sia nella forma dell'antisionismo è spesso la contestazione a Israele nel suo diritto a esistere. Questo è il punto, perché Israele è l'unico Stato nei confronti del quale quando si critica il governo di Israele in realtà immediatamente c'è un transfert che porta a criticare lo Stato in quanto tale e questo che non funziona. Non! 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 Non!